Salve amici del Centro Meteo Italiano, nuovo peggioramento del tempo in arrivo entro il weekend. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 24 novembre. Tempo stabile al mattino da nord a sud con nuvolosità alternata schiarite. Al pomeriggio da segnalare qualche pioggia tra Calabria Meridionale e Sicilia Orientale, possibili nevicate sulle Alpi Orientali di confine oltre 1.300 metri. In sera denottata peggiora con precipitazioni su Alpi Orientali, Romagna e regioni del Centro Sud. Quota neve in rapido calo sia sulle Alpi che sull'Appennino. Temperature minime in diminuzione e massime, stabili o in lieve rialzo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.